Ciao a tutti amici e amici di un channel, bentornati su Oxygen Not Included, anche oggi riprendiamo la nostra colonia, abbiamo della sabbia, stavo pensando di prendere un campione di DNA con un duplicante perché purtroppo nello scorso episodio c'è morto il primo duplicante, intanto che lavorava al progetto della decontaminazione dell'acqua, di cui sapete sono molto interessato da diversi episodi, ed era un agricoltore. Non abbiamo niente di tutto questo e abbiamo della gente che qui è veramente malaticcia e ha poca resistenza di germi, la cosa non mi piace molto, oppure potrei prendere un meccanico, non mi piacciono se devo essere sincero. Potrei prendere Travaldo e farlo diventare un agricoltore, dai pigliamo il suo ragazzo, abilità di Marco Travaldo, contadino chiaramente, gli diamo anche il berrettino. Frank invece, esperto in macchinario, ingegnere più scavatore, iniziamo a dargli il fattorino e Stinky che è il mio preferito, addestramento sulle exotute, perfetto. E qui ci siamo. Devone e Stinky ha ragazzi un 43% di stress, perché? In lutto, affamato, trattino il respiro. Sì, vabbè, perché stiamo lavorando in condizioni oscene. Questo è il motivo. La cosa che abbiamo combinato nello scorso episodio, che è importante, è il completamento di questa meraviglia, che è il serbatoio che mi va ad ammazzare i germi dell'acqua. È veramente importante. A parte che io dovrei veramente ossigenare questa zona, perché così non si può andare avanti. Datemi l'ossigeno, per favore. Acqua per filtrare l'antide carbonica dell'aria. Questo già va bene. Che cosa produce poi? Potremmo piazzarlo qui, in modo che vada un pochino a... Tanto questa è tutta l'antide carbonica. L'ossigeno, poi il sale e l'acqua. La recuperiamo. Costruiamolo intanto. È vero che hanno il malus dei piedi fradici, ma non è che devono entrare qui tutte le volte, quindi... Allora, il condotto è bloccato perché c'è la gridia di automazione, perfetto. Quindi l'acqua, quando il serbatoio si svuota, dovrebbe entrare. Il problema però, sapete cos'è? Chiedo a ricostruire a questo punto un altro, un'altra valvola. Eh sì. Devo costruire un'altra valvola, ragazzi, perché... Questa mi deve entrare nel condotto e uscire dal condotto. Caspita. Quindi questa roba la dobbiamo demolire. Yes. E dobbiamo dargli un'altra priorità, in questo caso. Cioè, questa valvola deve funzionare esattamente quando l'altra non funziona. In questo modo, tipo di notte o di giorno, carichiamo l'acqua sporca dentro al magazzino e la depuriamo. Di notte buttiamo l'acqua pulita dentro alla cisterna dell'acqua pulita, che tra l'altro adesso dovremmo avere quasi completato. Però questa è una priorità assoluta. La farò. Perfetto. Lo cizzo. Non sto facendo ricerca, sono un po' un buzzurro, ma questa cosa mi ha veramente... Ossigeno inquinato, ai ai ai. Questa cosa mi ha veramente fatto penare un pochino, quindi ho deciso di... dare molta priorità. Sul cibo siamo sempre alle solite, quindi qui non mi lamento. Sull'energia pure. Ora, potete notare... Potete notare che c'è un grosso problema. Perché abbiamo condotto la pompa del gas sommersa dalla fogna. E perché? Perché questa pompa dei liquidi dovrebbe andare qui dentro. E onestamente... Cioè, questa pompa produce... Fatemi vedere. Non riesco a vederlo, non so se sono io che sbaglio nel guardare, ma da qui si vede meglio. Allora, praticamente mi dà 10 kg al secondo d'acqua. 10 kg d'acqua, quindi 10 litri d'acqua. Sporca, quindi saranno un po' meno, ma non facciamolo gli scienziati. Questo usa 39 g al secondo, quindi capite che la pompa non funziona sempre. Tuttavia, il cavatappi funziona sempre, quindi questi continuano a buttarmi l'acqua sporca qui dentro della fogna. L'unico modo, adesso per evitare che questa fogna strabordi, è il seguente chiudere questo caratappi e creare una fone invece che servirà proprio per il ricircolo dell'acqua. E a questo punto la possiamo creare ovunque vogliamo. Intanto, noto che qui sta già arrivando dell'acqua. Guardate da dove arriva. Sta arrivando dal nostro condotto. Ok? Ora Guardate Arriva con dei germi. Questo è il problema. Arriva con dei germi ancora. Anche se poi i germi muoiono. Per qualche strano motivo. No, non è che muoiono, si vanno ad espandere. Sto avvelenando la pozza. Sto avvelenando la pozza perché questa valvola adesso sta funzionando. Ma il serbatoio non riesce ad ammazzare in tempo tutti i germi. E sì, questo è il problema. Questo è il problema. Ok, adesso qui diamo un altro sensore orario. E un altro cavolo di automazione. Poco male. Andremo a diluire nel tempo, immagino, e avremo soltanto acqua pura. Adesso non so se ho creato un problema, ma cercheremo di risolverlo. Questo mi va al contrario. Quindi questo sensore si attiva a 67 e dura a 44. Questo mi si attiva a 1 e fino a 15. Dovrebbe funzionare. Vediamo. Vediamo. Dovrebbe funzionare, però, secondo me. Priorità. Ragazzi, dai, fate le cose per bene. Ok, adesso il condotto si è bloccato perché è terminato il tempo. Perfetto. E i germi vanno a morire. Peccato che non muoiono perché c'è dell'acqua invece che del cloro. Quindi l'esposizione del cloro è molto bassa. Insomma, sempre un casino. Questa porta la rimetto a 5, però, perché non ha senso tenerla così. Ok. E niente, praticamente adesso qui abbiamo dei germi. Anche se... Anche se... 5,50. 113. No, credo di aver sbagliato. Così dovrebbe andare. Secondo me così dovrebbe andare. Dovrei dare abbastanza tempo all'acqua di... come dire, sterilizzarsi. Torniamo un attimo alla foglia che era piena. Ah, si sta riempendo troppo, ragazzi. Devo buttarla fuori. Allora, qui iniziamo a fare una tubatura. Facciamo sempre il granito a sto punto. e la dobbiamo andare a mettere in una vasca d'hoc di acqua sporca. A questo punto possiamo utilizzare questa. Visto che... visto che c'è già. Cosa dite? I suoni di questo gioco, ragazzi. Boom. E questo invece li andiamo a distruggere. Perfetto. Una volta fatto questo dovremmo avere questa piccola fogliarella che va a... a crescere. Qui faccio una porta... faccio una porta come questa. Stagna. Non mi veniva il nome. Faccio una porta stagna che vado a utilizzare semplicemente perché adesso ci devo fare dei lavori e poi la vado a lockare, a chiudere. Perché qui voglio poi una pompa dell'acqua che a questo punto vado a copiare. penso di aver fatto un errore in realtà. Penso di aver fatto un errore. Cioè perché mettere tutto insieme nello spazio più piccolo avrei dovuto fare il contrario. Cioè una pompa che me la porta qui l'acqua sporca. Allora non disperiamo però non ho fatto una cosa secondo me sensatissima. ma adesso si risolve. Cioè credo di aver fatto un piccolo controsenso. Comunque va bene. Credo di aver fatto un piccolo controsenso. Questa pompa mi va. voglio mandarla qui. Quindi devo fare quindi devo fare un paio di ponti. Aiuto. Credo che qua sono tutti doppi. Ecco perché dico aiuto. Perché sono tutti doppi e quindi se io voglio l'acqua pulita devo fare due ponti qualcosa di questo genere oppure cavolo. credo di aver fatto un errore di programmazione. Allora va bene. Ponte per liquidi se lo faccio entrare e no. Non funziona così. Non funziona. Bravi vanno a letto così intanto andrò a tempo di pensare. Ma perché faccio sta cosa scusate. faccio sapete cosa c'è che non ha senso. Sto praticamente cercando di sistemare un problema. Cioè un progetto sbagliato capite? E non è che sistemi un progetto sbagliato mettendoci delle toppe lo rifai da capo. io ho bisogno di un setaccio. Questo è il punto. Qui il setaccio ce ne ho uno devo fare un altro punto. Ok. Lo dobbiamo mettere qui perché poi mi è comodo. Dobbiamo mettere delle piastrelle delle piastrelle. Devo anche dare le priorità al nuovo arrivato scusate perché poi me ne dimentico queste cose. Ok. E adesso andiamo a prendere questi condotti. Ok. Quindi la pompa adesso sta andando qui e poi mi va anche qui ponte quindi l'entrata e l'uscita condotto per i liquidi. Questa è sempre l'entrata mi raccomando. Ok. E l'uscita è facile facile perché fa così. Non posso. Ok. Ho capito perché c'è il palo probabilmente. Ok. Ora andiamo sulle tubature dovrei scendere oppure la la metto sulla scala. Vediamo se funziona perché non ne sono certo. E nemmeno qui funziona. A parte che se lo mettessi qui gocciolerebbe. Quindi anche questa potrebbe essere un'idea fondamentalmente. forse non la più efficace della terra ma di certo funziona. È che mi cade sul fertilizzante. Famo una cosa. Ecco. Così siamo sicuri. E intanto vabbè ragazzi un pavimento almeno. Se sennò qui non mi funziona più un cacchio. Ottimo. Adesso lasciamo lì lavorare. Ok. Intanto devo guardare i germi 500 500 500 Sì dai. Ok. Presto buttiamo fuori l'acqua qui dal serbatoio. Vediamo. boom. Quindi l'orologio inizia a buttare fuori acqua completamente salilizzata in teoria. Fatemi vedere. Perfetto. Cioè perfetto un cazzo. Dovevo guardare qui in realtà. Eh però io adesso i germi nella vasca ne vedo molti meno. Perché all'inizio è arrivata un po' una tornata di germi però adesso la stiamo andando a diluire mettiamola così dai. Qui è molto diverso eh. Mezzo milione di germi. Wow. Ora questo l'orologio vedete continua ad andare. Continua ad andare però riusciremo a svuotare tutta la cisterna in questo periodo di tempo perché se no lo allunghiamo. Se no lo allunghiamo non voglio che rimanga dell'acqua quando non è necessario. E no secondo me ci dà un po' da allungarlo. Facciamo così anche perché guardate che non c'è conflitto. Non c'è conflitto. Il la valvola di chiusura porterà nuovi liquidi tipo in questo livello vedete e il serbatoio si dovrebbe essere già chiuso. L'unica cosa è che a questo punto io il serbatoio faccio una cosa di questo tipo scusate l'attivo molto prima l'attivo molto prima così la prossima volta riesco a pompare più acqua perché vedete che comunque qui mi rimane sempre un sacco di acqua qui dentro che è pura è pura e qui in questa stanza c'è soltanto il cloro quindi qualsiasi germe schiatta adesso dovrebbe partire fra 3 2 1 l'automazione della pompa che porta l'acqua schifosa l'acqua schifosa mi entra qui dentro nel condotto perfetto e adesso mi lavelena va bene schiumatoio nessun liquido in entrata chiaro adesso lo possiamo sfruttare qui mi entra che cosa produce lo schiumatoio ah non produce aria respirabile che cosa fa e butta fuori acqua sporca d'accordo che quindi mi dovrebbe in teoria andare qui dentro non mi piace non mi piace ah non mi piace non mi piace non mi dici sta cosa è nulla perché non abbiamo il cavo qui ma stiamo scherzando dai cazzarola cioè abbiamo una foglia che straborda d'acqua dobbiamo produrre a go go acqua con i germi anche perché qui vedete che ormai questo bacino si va a riempire allora vediamo eh non si è riempito completamente però cioè l'orologio secondo me non ha abbastanza tempo per riempire completamente la come si chiama il sabatoio liquido adesso parte con il segnale verde boom e l'acqua che dovrebbe essersi aveva ancora una ventina di germi adesso sono tutti morti però occhio occhio davvero perfetto perfetto no anche lo schermatoio adesso sta funzionando sta producendo una gran quantità di acqua con i germi ripeto cioè non è la roba più bella da vedersi della storia lo so il problema è che ho talmente tante tubature e mal congegnate che è una situazione un po' così punk diciamo così vediamo come sarà fra una ventina di cicli nel senso che adesso tutto è programmato in modo da generare un bacino che si andrà a riempire e poi abbiamo due pompe con cui possiamo recuperare l'acqua allo stesso tempo qui la pompa continua a lavorare perché mi butta fuori l'acqua su due zone una mi va sul sintetizzatore e una invece mi va sempre nel setaccio che continua a lavorare a ruota a tamburo battente perfetto sono orgogliosissimo di questa piccola opera ci sono venuti tre episodi ma funziona l'ho vista su un tutorial in modo fatto molto diverso ma qui l'ho declinata con i bacini ad aria aperta il ragazzo che ha fatto il tutorial utilizzava due setacci che andavano direttamente nel serbatoio però non aveva due valvoli di chiusura ne aveva tre non aveva due orologi ne aveva tre ed erano sincronizzati al secondo io ho detto per adesso aspetto allora voglio vedere sapete qual è il problema? e questo adesso smette io inizio a pompare l'acqua ok però quando questo smette no io devo aspettare un po' di più secondo me facciamo una cosa azzariamo la durata di attivazione di questa di questa sondina e la osserviamo la osserviamo vediamo quando quando questo è pieno adesso teniamo riempiamo questo questo tank lo portiamo al massimo ci mette un sacco di tempo però per andare al massimo questo va detto l'attivazione 0 1 ok e per riempirsi ragazzi ci sta mettendo tutto un ciclo però intanto che si riempie vedete che i germi si schiattano ma non abbastanza per sterilizzare l'acqua e questo significa che io non posso aprire immediatamente dopo ok quindi adesso quando questo diventa rosso cioè arriva all'ultima l'ultima due tacche quindi abbiamo verde, giallo e rosso come colori voglio contare quanto tempo ci mette prima di aver sterilizzato tutto faccio una specie di testa d'occhio stop no non si stop ancora l'acqua continua a scorrere e ci mette praticamente un ciclo intero ragazzi se io gli do come orario di attivazione zero questo mi finisce praticamente sì però ragazzi mi ammazzo immediatamente i germi posso iniziare poco dopo potrei iniziare tipo adesso il fatto è che voglio che siano a zero ok stop stop questo è verde quindi in teoria pomperebbe però noi diciamo che da adesso smette ok adesso smette di pompare ah ok facciamo un 50% a questo punto ok ha smesso di pompare praticamente fino a qui così teniamo qualche secondo in più per avere la la sterilizzazione questo inizia a pompare da da adesso qualche secondo in più ok e mi scende fino a qua e così però praticamente si coincidono ho sbagliato dovevo farlo al contrario penso che così vada meglio vediamo togliamo la pausa adesso siamo nella fase in cui tutto è rosso perfetto qui parte la fase in cui è verde stop scusate perché ho acqua con i ho acqua con i germi ho acqua con i germi ah perché questo schifo era nei condotti shit brutta storia ma niente ragazzi qui c'è da tentare un 50 e 50 e tanti saluti va bene la teniamo così quindi un 50 e 50 non sarà super efficiente ma penso che funzioni ad ogni modo qui i germi sono pochissimi 477 considerando che l'acqua che pompa fuori il nostro il nostro filtro ne ha tipo 133 mila direi che sta cosa sta funzionando bene adesso a parte la cascata qui che non mi piace ne la sistemeremo più avanti energia questo sarà il prossimo obiettivo tanto campione genetico sabbia che culo l'avevo chiesto a babbo natale tantissimo tempo fa adesso che aspettiamo che l'acqua cresce continui a salire noi dobbiamo buttarci e avvicinarci a questa a questa risorsa di geyser di gas naturale però prima dobbiamo un pochino ossigenare questo ambiente perché fa schifo lo schiumatore produce acqua sporca tanti saluti potrei fare ragazzi potrei aumentare questa fogna onestamente potrei farlo occhio perché qua tra le vie carbonica e il gas naturale è un casino converte la luce in ossigeno e cloro no dobbiamo convertire usare l'acqua per l'anidia carbonica e poi buttarla nella fogna punto ah la terra inquinata ok perfetto così la terra inquinata la buttiamo subito nel culo di compostaggio e allo stesso tempo poi depuriamo un po' l'aria qui c'è da fare una bella apertura così mettiamo le due porte anche se molti di voi mi hanno detto che è una cosa che non ha così senso ma ce la farò perfetto tutto si mette come allora in effetti lo schiamatoio che avevo fatto qui era la cosa migliore però poi mi servono i tubi che mi portano alla fogna ma alla fine era la cosa migliore ragazzi dove cacchio sta? punto cioè cazzata proprio la butto qui dentro avendo anche la priorità sarà acqua che viene pulita invece che andare nella fogna viene direttamente ripulita energia lo colleghiamo qui e poi ci serve praticamente un ingresso dell'acqua dei condotti per i liquidi io qui potrei utilizzare anche l'acqua sporca in teoria se non sbaglio penso penso però non essendo né sicuro al 100% andiamo a utilizzare andiamo a utilizzare parte dell'acqua che viene prodotta dal setaccio che è sporca ha i germi ma vediamo vediamo se funziona adesso dovrebbero portare cioè dovrebbe arrivare l'acqua quando arriva l'acqua dovremmo iniziare a filtrare l'anidride carbonica produrre ossigeno nel frattempo mettiamo anche un condodorante ottimo amici e amiche ci vediamo nel prossimo episodio grazie